L'Imitro fa la villa dove è stato ritrovato il corpo di Nicolas Del Rio abita a Fiorenza Ginanneschi, una violinista dell'Accademia di Santa Cecilia, che ci racconta quello che ha sentito e il suo stato d'animo. Ha sentito nulla, si è accorta di qualcosa. Ho notato soprattutto che c'era sempre. Prima veniva un giorno, due, e adesso erano gli ultimi 15 giorni, era sempre qui. Ha fatto anche un fuoco e mi sono anche arrabbiata perché mi ha fumicato. Erano le 7 e mezzo. Due, tre giorni prima che succedesse tutto questo. Se no, altro non ho notato. C'era più movimento, questo è ovvio, sì. Sto parlando del padre di uno degli arrestati. Sì, aveva la custodia della villa e lui era sempre qui. Però era molto cortese perché una volta gli ho anche chiesto di smettere di tagliare l'erba perché aspettavo ospiti. Ha smesso, è stato molto, molto educato. Era una persona cortese comunque. Una casa completamente disabitata da anni. Da diversi anni, quasi, forse quasi dieci anni. C'era solo lui, veniva solo lui. Con che frequenza prima e con che frequenza ultimamente? Prima veniva, diciamo, una volta al mese, due volte al mese. Invece quest'ultimo mese era quasi sempre qui. Visto mezzi che sono entrati magari nei giorni scorsi dentro la villa? Mezzi no, mezzi no. Anche perché sono stata fuori diversi giorni, però sentivo che c'era sempre qualcuno. Quello sì. Sono sconvolta. Anche perché ieri facevo l'aperitivo con degli amici, mentre questi trovavano il corpo. Sono abbastanza sconvolgente.